Io Prepotenza E cattiveria L'ultimo giocamento ha fatto una roba strana e gli han fatto L'arco Mi vedono Naked che vi parla ragazzi siamo tornati Con un nuovo video Signor me nazionale qua per dirvi che È giunta l'ora Nel caso in cui magari Voi non ne siete al corrente Di utilizzare magari un'arma E soprattutto Masterarla Farla vostra E ci vuole un po' di tempo Perché è la miglior arma che potete usare Adesso in corto Sia a livello di time to kill Sia di tante tante altre cose Che probabilmente Probabilmente con l'arrivo di Season 3 Gli verranno tagliate le gambe Ci Guarda ci metto proprio Neanche la mano sul fuoco Ci metto le palle sul fuoco Eccolo qua L'Owen Del Diablos Ebbene sì Proprio lei Proprio lei Proprio lei La prossima arma che verrà nerfata Sicuro ragazzi Certo per certo Perché ha un time to kill Veramente Veramente Esagerato Un'arma che Per colpa del suo caricatore Che lievemente In mezzo all'Iscoliones Tante volte Si fa fatica a uccidere le mici Il segreto sta nel Masterarla Usarla tantissimo Abituarsi a quel Maledetto caricatore Oppure utilizzare Il mirino Che vi feci vedere Al tempo Dove capperà questo qua Che switchi Però Sennò di poi Mi sono accorto che È troppo piccolino Perché Ha uno zoom Quasi al contrario Dopo un po' Diciamo che A me personalmente Mi ha stufato Quindi Ci ho schiaffato su La lastra riflettente E Man mano che Facevo partite Su partite Sono riuscito a Utilizzarlo al meglio Volata Convegliatore Di Rinchiulino Scanna Okerson 142 Rapid Molti mi hanno detto Di poi la 188 Raga ma Non c'è paragone La canna migliore Con il time to kill Più basso È la 142 E allo stesso tempo Sia la canna migliore Sia la canna più difficile Da usare Uno perché Rallenta le entrate In modalità mirino Paradossalmente E due perché Ovviamente scompensa Tantissimo l'arma Ma vi posso garantire Che con questa canna Avendo circa 20-25% In più di Ratio di fuoco Vi ho detto tutto Fa sì che Con la potenza Che ha all'interno Quest'arma Spulpate I nemici Dovete Abituarvici Ok È molto più difficile Chiaro Se mettete questa Molto stabile Se mettete questa Un pochino più stabile Perde un po' Di scioglievolezza Con questa però Fa sì che Spulpate tutti Lastra punto Riflettente Calcio Rimosso Specialità 1 Acrobata Specialità 2 Celerità Impugnatura In resina In resina vegetale Per l'ipfire E anche per il controllo Dell'inculo Verticale Munizioni Da 72 colpi Gorenko Quelli con più cadenza Quelli che vanno Sulle mitragliette Come gran parte Delle mitragliette Tutte le mitragliette Di Vanguardio Colpi frangibili E sotto canna Freno a mano Per compensare Un po' Di riguro Sia verticale Che orizzontale Quindi raga Che dirvi Sbrigatevi Utilizzatevela Godetevela Finchè È in meta Noi Ci vediamo Domani Con il prossimo video Bella Sbrigatevi 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 Ce l'ha fatto uno L'ho seressato Ho preso Scammato prepotentemente Questa kid Io Prepotenza E cattiveria Sbrigatevi 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 Il tuo bra Tuo bra Mastro 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 Ah Sbrigatevi Sbrigatevi Ah Fraga pure Mi sa che da me Alla scala da me Molto bene Bebì Srepresentedo Sei qua Ma è sì Sbrigatevi Ora Un fenomeno Ho accettato Quell'occhio I altri due Sono nella casa Casta ahia vaffanculo bravi minchia non c'è il comando Owen che cazzo si è lì va dietro fra ancora fra questo qua frate questo qua è ancora qui è ancora qui è la terza volta che l'ho prenduto qui audio mi ha fatto mi ha sentito di brutto questo sicuro lo scavalchi perdi il gunfight sempre sempre lo perdi eh nì ho fatto l'ultimo giornamento ho fatto una roba strana gli han fatto ma ci ho capito bene è prendibile? si adesso si c'era il casto che c'era lì l'ho fatto occhio lori occhio mi ha fatto team wipe possibile? c'è un altro team però c'è un altro team da sotto c'è un altro team molto bene beh sì sì sotto sotto sto all'odinostro proprio ho deciso ho smirato questi cazzi come ho fatto prima qua c'è un anima c'è tutto qua c'è tutto c'è tutto dove che abbiamo fatto? tre volte l'ho fatto tre volte l'ho fatto tre volte l'ho fatto raga questo qua è sceso col paracadute raga hai capito quello che vi dico? che non si sente niente questo mi è sceso dietro col paracadute e non l'ho sentito che assurdo questo mi è sceso dietro di me col paracadute non ho sentito un rumore quello lì è assurdo raga comunque quello lì è assurdo raga lui trova un posto si piazza lì e non si muove più c'è allucinante ragazzi c'è questo allucinante si vede che la gente non lavora comunque eh Cristo Dio questi giorni saranno indecenti questi giorni eh sì vai la prova vaffanculo no faccio un armi se vuoi bro ho appena ucciso uno no no raga questo c'è il cibo sono due tipi da te uno e uno brah ho fatto un bombing vero buono notizione incredibile questa ora io faccio tutto il giro da safe vaffanculo no 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 brah